L'appuntamento è per il 19 prossimo in via Gioberti 5, nuova, anzi rinnovata sede della fondazione della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana. L'antico palazzo è stato infatti recuperato e restaurato, mirabilmente restituito alla fruizione della città e del suo comprensorio. E' questo infatti il fine ultimo ed istituzionale della fondazione nata per sostenere lo sviluppo e la cultura del proprio territorio. Un evento, quello del il 19 aprile, che si preannuncia memorabile per Fabriano, ricco il menù della giornata nella quale la fondazione invita Fabriano a palazzo. In questa nuova sede troveranno finalmente una definitiva collocazione le opere di Mannucce e di Ruggeri appartenenti alla collezione che la fondazione ha acquistato nel 2001. Oltre a questa esposizione, al secondo piano del palazzo avremo una sala convegni con circa 70 posti e con questa sala vorremmo creare un punto per l'attività culturale cittadina. La fondazione vuole porsi ancora di più con questi strumenti al centro dell'attività culturale della città e non solo della città. Durante i lavori di recupero sono stati trovati degli affreschi in alcuni soffitti del palazzo e naturalmente li abbiamo recuperati perché se il scopo della fondazione è quello di recuperare l'arte a maggior ragione e dovremmo farlo a casa nostra.